La rete CE è una rete europea, noi per esempio facciamo tanti progetti Erasmus, che prima erano i Comenius, quindi viaggiando per l'Europa abbiamo già incontrato delle scuole RETE CE, l'acronimo significa Schools for Health in Europe, cioè le scuole per la salute in Europa, esiste, è veramente una rete europea, in Piemonte è particolarmente seguita e sviluppata. Quindi questa rete CE è una realtà di scuole che in alcuni casi si organizza con una scuola a polo territoriale legata, perlomeno in Piemonte, al territorio della propria ASL, quindi noi che siamo scuola a polo del territorio dell'ASL 85, in realtà comprendiamo più scuole rispetto a quello che può essere un ambito attuale. Allora, qual è il lavoro della rete CE principale? Il lavoro della rete CE è quello di fotografare l'esistente e coordinarlo, perché altrimenti non si capisce come si possa fare un lavoro strutturato offrendo sul territorio a tutti le stesse possibilità, che sono possibilità non obblighi, ma anche riuscire a fare un lavoro in cui si passino le buone pratiche e non si ripetano certe esperienze che invece si sono rivelate magari fallimentari. Ci sono dei compiti e delle opportunità per la scuola polo e per le singole scuole. Le scuole polo hanno un'organizzazione interna che per adesso è anche un'aria, nel senso che ognuna di noi in scuola polo si è data un'organizzazione che è sembrata al momento la più funzionale per il proprio territorio.